Dunque, Iula, solito ringraziamento di essere venuta, ormai lo dirò ancora qualche... Grazie a te, grazie a voi di avermi invitato, ma volevo sapere, l'idea è tua o comunque dei dirigenti della trasmissione o ha scritto veramente qualcuno chiedendo di... No, 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 non parte mai di iniziative nostre, questo è il nostro richiamo, ci sono richieste... Grazie a te, ma grazie soprattutto a chi ha scritto, veramente. Ah, grazie di questo ringraziamento, eccetera. Adesso noi ti facciamo vedere un tuo inserto, qui non c'è scritto dal... Chissà cosa avete trovato... Dal... che? Da Passerella. Ah sì, da Passerella del... Del 18659. Grazie. 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 Vorrei chiederti un tuo parere su te stessa e poi ne voglio dire uno breve io, mi è venuta in mente in questo momento. Ma non lo so, a me fai... Uno si conosce, no? Quindi non è che si notino tanto le differenze, non so come dire, cioè i capelli così, beh, perché a quell'epoca erano così, il vestitino col fiochino, poi a 59 ero più ragazza, ero giovane, così. Gino durante... Ma non so... No, Gino durante la... Leggi come sono cantata tanto. Sì, sì, no, ma come aspetto anche fisico, Gino mi diceva durante... Durante qui, durante adesso, diceva che ha trovato una somiglianza, vista così al video, tra Jennifer Jones e Shirley Temple. Un'altra cosa volevo dire, starò brevissimo spero, vorrei rivolgermi ai ragazzi, ai giovani, voi sapete ragazzi, per tante volte che ho scritto su Radio Corriere, oppure comunque abbiamo parlato di questo che io vi adoro, vi amo e vi capisco, noi siamo stati un po' gli anticipatori di tutto quello che voi fate, fate oggi. Dico noi, noi e tanti altri, in un certo senso, tu stessa, la voce, il timbro di voce, le voci rauche, le voci gridate, le voci urlate, tutte queste cose. Io sono un hamstroniano, amo, amo hamstron come cantante, dunque figurarsi, sono semmai più matto di voi, in un certo senso. Amo una cosa che è ancora più folle di quello che è cosa. Però, in un certo momento, sentire una voce di questo tipo, un vibrato di questo tipo e un'intonazione di questo tipo, mi sembra. Sì, ma hai sentito come era, non so, Magic Moment è già uno swing, però era un po' più lirica, nooo, col finale nooo, con la voce così. Cioè già un altro modo, oggi non farei mai un finale così. Certamente. No, lungo lirichetante, in un pezzo swing. Sì, certo, certo. Cambia tutto sempre, anche noi stessi. Se parla la mamma oggi accorcerei le golle. Allora io accorcio i finali e tu accorci le golle, d'accordo? E allora, Iura, tocca la canzone nuova, la canzone che ci offri vita al vivo. Dunque, sai cosa ho pensato? Di fare una canzone nuova, che è un Dixieland, no? Torna il Dixieland di moda e io ho appena fatto, appena inciso questo pezzo, anzi credo sia la prima esecuzione televisiva. Proprio pensando a te, perché tu che hai scritto per me quel quando una ragazza, che ancora oggi mi richiedono, allora volevo farti sentire questo nuovo Dixieland che si chiama un vecchio Dixieland. Così giusto come gioco. Grazie, Monte. Un piccolo negrito La compagna saltellando col di patra Whisky Il vecchio Dixieland Debbie Di Charleston e di New Orleans Fumo E i ritmi della band Un negro, una paglietta e tanto jazz Whisky E un vecchio Dixieland Il caro Dixieland E i ritmi della vecchia band Il vecchio Dixieland Fumo E' un vecchio ciccilento, debbi di cialestone e di gignoli. Fumo e i ritmi della vecchia band, un negro, una palmetta e tanto jazz. E a te un negro, una palmetta e tanto jazz. Grazie.